La sfida di domani contro il fanalino di Coda Union Fossa Cesia si disputerà al Pigliacieli di Montorio con inizio alle ore 15 e non allo stadio Gaetano Bonolis occupato dal match serale del Monterosi contro il Crotone Serie C. Mercoledì prossimo invece i Biancorossi se la vedranno contro il Paternò per l'andata di semifinale di Coppa Italia di eccellenza e dopo il lungo stop si ripartirà il 3 aprile proprio dal match di ritorno in Sicilia di Coppa. Il campionato tornerà il 7 aprile con la trasferta in casa della Vastese. Il 10 aprile di mercoledì il Diavolo recupererà la gara di campionato con la Renato Curia Angolana al Bonolis. In mattinata intanto il Teramo ha svolto l'allenamento di rifinitura al Besso di San Nicolò. Tutti disponibili, con il Rey che sembra abbia recuperato, solo Esposito salterà la gara per squalifica. Contro il Fossa Cesia non sembrerebbe un impegno difficilissimo e ultimo in classifica con 10 punti con una sola vittoria finora all'attivo, 7 pareggi e 21 sconfitte. Ha il peggiore attacco con soli 18 gol realizzati e la peggiore difesa con 69 reti subite. Un'eventuale sconfitta di domani al Bonolis potrebbe decretare la matematica retrocessione in promozione. La direzione di gara sarà tutta a Bruzzese per l'incontro dei Pigliacelli di Montorio. A Nicola Saraceni della sezione di Vasto spetterà dirigere città di Teramo Fossa Cesia.